I portieri sia importante avere sempre i guantoni. Alla ritirata capita anche questo, che Beppe Zinetti abbia i piedi nudi alla fine di una nuova giornata d'allenamento e questo povero giornalista di Max Sisto si sia trasformato, come ben vedete, a mantenere il microfono con i guantoni di Gillet. Vabbè, sei riuscito in questa trasformazione, ma non è un caso che abbiamo inquadrato i tuoi piedi, perché anche quest'anno Gillet, Lamberti o eventualmente chi sarà anche il secondo portiere di riserva devono essere bravi con i piedi e non solo con le mani? Sì, devono saper fare anche quello, ma l'importante, il ruolo principale del portiere è parare. Prima parare, poi dopo lavoriamo anche sul fatto della tecnica con i piedi, che come sappiamo nella nostra squadra serve, serve abbastanza. Partiamo da un flashback, è una domanda che ho posto anche ad Alessandro Innocenti. Da buon gruppo dei tre moschettieri insieme a Sassassullo, non avete mai avuto in quest'estate il minimo dubbio di ritrovarvi insieme con Gian Piero Ventura alla guida del Bari, nonostante i rumors di mercato? No, non abbiamo mai avuto nessun dubbio, lo sapevamo già quando siamo partiti da Bari, che tornavamo a Bari, che avevamo già preparato tutto il lavoro anche per il ritiro, scelti i luoghi, visitati i posti, eravamo tranquilli e sereni. Credo che finalmente quest'anno ho passato 20 giorni di vacanza sereno e tranquillo. A quanto pare abbiamo visto anche in palestra, l'ha beccato l'occhio vigile del nostro Nicola Corraro, il credo quest'anno è, se vogliamo possiamo, ma la parola d'ordine è stupire sempre di più. E da avere la rabbia per stupire, perché se uno ha la pancia piena e se si è contenta, credo che sia molto difficile poter fare quello che abbiamo in mente di fare. Beppe, ma quanto è difficile ripetersi in particolar modo, ad esempio per il ruolo del portiere, che è un ruolo che è tanto di testa, al di là chiaramente dell'allenamento, dell'aspetto fisico, ma è un ruolo che parte sicuramente dai neuroni cerebrali. Quanto stai vedendo Gilles, lo stesso Lamberti, attaccati alla fatica quotidiana? Ma direi che non c'è nessuna differenza con il primo impatto dell'anno scorso. Io penso soprattutto che un giocatore, un portiere, la prima cosa importante è sapere. Quando uno sa, io credo che la maggior parte del lavoro l'abbia già fatto. Certo, il nostro ruolo ci comporta anche degli imprevisti, delle cose non preventivabili, però io credo che Gilles abbia la capacità, la consapevolezza dei suoi mezzi, delle sue doti e credo che se la possa cavare in qualsiasi situazione. So che mi dirai che non riguarda da vicino la tua figura, ma te la devo porre questa domanda. Può cambiare il gioco di Gilles o di chi difenderà i pali del Bari, visto che è cambiata almeno per due quarti la linea difensiva? No, assolutamente, assolutamente. Io penso che i giocatori che entreranno a far parte di questo gruppo e di questa squadra devono essere loro ad adattarsi alla nostra mentalità, al nostro tipo di gioco, al nostro modo di fare calcio, al nostro modo di interpretare la partita, al nostro modo di porci di fronte agli avversari e alle situazioni che si vengono a creare. Io credo che non ci sarà nessun problema, perché questa è una squadra formata da giocatori, ma sicuramente formata anche da uomini che hanno dimostrato un attaccamento particolare a questi colori, a questa maglia e soprattutto alla voglia di migliorarsi per poter ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano. E poi c'è l'elemento essenziale, c'è l'allegria perché ci sono anche dei ragazzini che poi vengono a stuzzicarti mentre fai le interviste con noi. Eh vabbè sai, non ne possono fare a meno.